Allora, dopo aver provato a spiegarvi che cosa è la geografia, spero di essere riuscita, voglio riflettere sulla nostra corsa e il titolo è un po' imponente, ma non intendeva che fossi così imponente, però ci fa riflettere l'impatto delle decisioni sociopolitiche sulla morfologia della nostra corsa. E ho preso un quadro, uno dei macchiaioli, per farci vedere come fu vinta negli anni 1860 una parte della nostra corsa. Se non sapessimo che questa era la nostra corsa, avremmo potuto pensare che era proprio altro. Invece era così. Non uso la parola naturale perché non esiste in nessuna parte del mondo un ambiente divertito naturale. Dovunque ci sia stato l'uomo, anche se ha perso per vivere in un modo semplice, come pescatori, come cacciatori, come agricoltore, qualcosa è cambiato. Quindi evito di usare quella parola e andiamo avanti. Prima castiglioncello e poi andiamo giù a volveri. Allora, spero che sì. Allora, io voglio immaginare che questo è il palcoscenico su cui l'uomo, la donna, l'essere umano, ha giocato un ruolo molto importante, partendo da castiglioncello al nord e andando giù fino a volveri. Consiglio però solo castiglioncello con una... qualche minuto intorno a quello che sta succedendo adesso a Cecina, alla Marina di Cecina, per passare a volveri. Allora, i principali attori a castiglioncello sono i veri tutti, perché ho messo un colpo chanel. Senza di lei, castiglioncello non sarebbe come adesso. Diego Marcelli lo conosciamo qui. Poi Patrone, Barrone, Salto Lazzaro, Lazzaro. Poi c'è il comune di Bosignano Marissimo, che è entrato un po' tardi sulla scena, e poi la figliola in basso a destra. I principali attori invece da Cecina a Bordoli erano il Gran Duca dello Bosco II, il Marchese Mario Incisa della Rocchetta e la Regione Toscana. Adesso è molto importante il ruolo della Regione Toscana in quello che sta succedendo adesso. Proprio adesso a Cecina, sul giornale del Piero, l'altro ieri, c'è un articolo. E torniamo alla fine di questo articolo. Allora, cominciamo a castiglioncello. Com'era una volta? Il primo quadro è di fattori e ci fa vedere due figli di timi che sono stati piantati da Marchese, davanti a casa sua. Prima, trovare un aldeo in questo pezzo di coppia sarebbe stato abbastanza difficile. Non è una pianta che cresce con facilità nel regalo che ci ha fatto la geologia. Torniamo su quella cosa in un momento. Poi abbiamo signorine, la ragazza, la signora con gli animali su un fratto. Mi sembra che qui è stato già messuto. E poi la torre medicea, quello è di Borrani. E vi pongo la domanda. Guardando questi visuali, questa impressione, cerchiamo un addiettivo. Guardiamoli tutti, sono altri. Tre alberi insieme, qui c'è anche una casa, quindi un'abitazione in vicinanza. Per trovarne un altro bisogna guardare molto lontano in mezzo a una scena che sembra agricola. Poi abbiamo un pezzo di costa che se lo cerchi oggi non lo trovi, però è lì. Questo è il porto verde. Questo erano due visioni di porto verde da abati con la casa burra che è ancora lì, adesso si chiama la casa del campo, è una cosa del genere, è una solo appartamenti. Poi davanti c'è un biumiciatolo, il bocchio pastraia, con alcuni sassi su un pezzo di terra, non lo chiamo spiaggia, diciamo un pezzo di terra, e a destra c'è il stesso bocchio pastraia, e ti vedi che era un pastolo, si vedi gli animali a pazzolo, come in Corsica, se ci fai adesso, è uguale, non in tutta la Corsica, ma in molte zone della Corsica. Gli animali sono attacchi al mare. Adesso vi pongo la domanda, come si potrebbe descrivere questo ambiente, sia quello dei campi, della campagna, sia l'ambiente animale? Osservaggio e brullo, queste sono le due parole che ho provato in continuazione, cercando informazioni su questo nome. salvaggio e brullo. E' affascinante? Ma dipende da ciascuno di noi, del nostro visione del bello. Quindi potrebbe essere affascinante, potrebbe essere anche di intellenze, dipende come reagiamo a ognuno di noi, da di fronte a questi quadri, ma ciai occhi. però come geografa io devo capire perché è così. Perché è così? Comincio da capo e da capo all'illuso della geologia. Infatti la geologia è fondamentale, perché la roccia in superficie su tutto il promottorio di Castiglioncello è la canchina. Non voglio stare troppo a guardare questa canchina, per avere solo un'idea. In generale il giallo è questa canchina, è la roccia che vede ai pungenti, ostili al massimo. Dopo ci vi faccio vedere una cosa nel parcheggio Brenta, di fronte a casa nostra, dove si vede bellissimo la panchina. La panchina è un deposito recente, io lo diciamo, io lo diciamo parlando, che corre altre rocce che hanno tutta un altro tipo di, diciamo, carattere che può influere molto su quello che troviamo qui. Ad esempio, se si va a punte di lini, queste sono due rocce molto più vecchie della panchina, sono rocce calcare, uno che è uno M3, è quando si comincia a camminare, poi dove finisce il camminamento appare un'altra roccia, però sono tutti e due dello stesso epoca. E poi c'è una striscia lungo la costa, da lì dove c'è il godilonda, che è volcanico, è il gabbro. E ancora più vecchio del gabbro, c'è un altro rocce che si chiama serpentinite, però questi ci sono a Castiglioncello, ma sono nascosti, sono sotto questa panchina. Poi spunta a Porto Vecchio un'altra roccia, qui C2, che è argilla, che è stata alterata dal calore durante i periodi volcanici, però quasi quasi non si trova, perché la panchina è arrivata sopra. Come la panchina è arrivata sopra? Perché c'è stato un cambiamento di livello del mare, e il mare ha spiamato una zona e questa sabbia, che è diventata roccia, è stata depositata. Allora, questa, senza fare una lezione di geologia, però è importante, ma è che abbiamo tagliato un pezzo così, partendo dal numero 4, sono indietro, da punta di vini, e sta andando su a Castiglioncello Paese, su alla strada della Ramiaia, che va su Renato. Un bel male. Ah sì, scusi, sì. Allora, sì, sì. Allora, partendo da Puntivichini, questo qui, che è il gabbro, è quasi alla superficie, ma non proprio. e sopra, da dove c'è il paese, fino a, o più o meno alle schianate, c'è questa, si chiama Pantina, perché è usata per fare le pantine, il nome geologico è tutto un altro, che non ci dobbiamo riflettere più di tanto. Poi c'è una piccola zona, dove sporge il serpentinite, io non ho ancora trovato, perché è tutto coperto di giardini, di casa, tutto quanto, e ci vuole una sezione che si può vedere. Poi, su alla Ragnaia, c'è questa zona di roccia calcarea, e lì immagino, quando abbiamo visto la pittura di signorini, con la ragazza, con gli animali, con le vacche, e hanno mettuto qualcosa, lì avrebbero potuto far crescere il brano. Altrove no. Non voglio soffermare troppo su questo, però farci capire che siamo veramente nelle mani della geologia. Questo è qui, guardando la foto, questa è la roccia andando verso il punto di giro, si vede che è chiara, poi ci sono pezzi più oscure, perché è una miscela di sabbia e di calcio. Poi questo è il gabbro, questo è il settore della pineta, dove c'è lo scoglio, dove c'è lo scoglio, ripido, quasi semplice il gabbro, e poi questo è il parcheggio del Brenta, e lo vedremo dopo, dove c'è legna dappertutto, questo panchino. Allora, siamo adesso nel parcheggio Brenta. Qui c'è la roccia calcarea sabbiosa, e sopra c'è questa panchina, e nonostante che ci sia la vegetazione che contribuisce le vecchie foglie, c'è l'humus, non so come scritto in italiano, non è riuscito nemmeno a fare il terreno, dove lo metterò in un metro, però qui, qua, 40 centimetri, perché cresce il 40? I pinghi crescono, perché le ridici sono così. Però non è che velo agricolo, potrebbe essere tascolo, ma non che potrebbe essere crema agricolo. Andando giù ai pungenti, se la zona viene sotto acqua, quando c'è l'alta marea, uno di quelli proprio, non alta marea, ma il livello, porta via tutti i depositi che forse sono stati lasciati dal passato, che ci lascia con la roccia come ceno di bucci, voi lo conoscete qua, meglio di me. Le piante fanno il tutto per stabilirsi. Se andate lì un'altra volta, guarda bene che ci sono certi punti dove hanno riuscito, sono riusciti a mettere giù le radici e guardando bene dopo la pioggia, ce l'hanno fatto dove l'acqua che scola dal camminamento verso il mare ha portato giù un po' di sappia un po' di tariccio e queste piantine sono, e infatti ho fatto la foto. Si vede qui la roccia che ha servito dopo la pioggia, un fiume piamine e un fiume, un passaggio di acqua e qui ci sono questi pianti che fanno di tutto per colonizzare questa zona di roccia. quindi quello che si vede a Cartiglioncello è... Ah, non va avanti? C'è un fiume piazza. C'è un fiume piazza. C'è un fiume piazza. C'è un fiume piazza. dove c'è questa esposizione. Probabilmente quel parcheggio, voi sapete meglio di me, è proprio accanto al bozzo e probabilmente si allaga adesso perché l'acqua non riesce a scolar via e entrare nel bozzo. È un laghetto dopo la croce. però nel passato probabilmente quando c'era il pleno del bozzo stava a avere quella zona e ha esposto questo. Non credo che sia una piccola paglia ma ho bisogno di una mazza geologica molto più dettagliata di quello lì. Allora, questo è, diciamo, il palco cerco. una costa abbastanza ostile, abbastanza infertile con certi scogli e rocci che sono stati evitati per secoli, anche millenni, anche se c'erano gli etruschi che sappiamo che c'erano. Non era invitante all'essere umano di andare lì a provare a fare qualsiasi attività tra le cose possano. e poi arriva Marcello. Lui ereditò tutto all'età di 21 anni l'avevo letto. E nel 1861 appena 22 anni aveva la sfortuna o fortuna dipende come si vede di ereditare questo territorio in torno a Castiglioncello. e lui ospita gli amici artisti del caffè Michelangelo dei Firenze che sono diventati famosi e con il nome di Marcello. e lui, in dato incerto, ho cercato ma non sono riuscita assolutamente a trovare esattamente la data, lui comincia la moda dei team a Castiglioncello. lui ha spiancato due file di figli e abbiamo visto che il pastore, vedendo tutto dalla terrazza della casolare di Marcello, ha visto questi due figli e un po' rendono più dolce la visuale. però c'era un altro motivo per far pianteggiare i figli, come vedremo dopo. Allora, nel 1872 e 1874 lui ottiene del denaro i beni e i castiglati intorno alla Torre di Medicea e altre tenute fino ad essere padroni di ben 1.999 ettri quindi non era una piccola peluca, era grande. Poi accumula i debiti, 1880 e avvia trattativa per la vendita. io penso che come terreno agricolo ho rilevatore e quindi io non ho capito bene perché ha deciso di comprare tutto il letto intorno alla Torre. Non lo so. Perché le piaceva probabilmente, ma il terreno costa. anche se lo lasci fare lì a fare niente, il costo c'è. Perché metti che cambia idea di sconderare un po' tutto. cioè non è che lasciando, tenendo un incontro, si risparmia. e nel 1879 rende tutto al valore patrone per un valore di tre, uno, quattro, due, sei, quattro. io non ho nessuna idea come se, però ho capito che era svendito, ma io non posso sapere qual era il valore del mercato, però ho letto che lui doveva vendere. quindi l'altro vendere è quello che ricava nell'andolo, secondario. E' molto triste per me nel 1896 muore nella sua russica volta, accanto alla quale il valore inizia la costruzione della casa. Quindi non ha solo avvenuto, ma ha visto qualcuno che cambia l'ambiente alla quale si teneva parte. Quindi un essere umano fallisce nel suo sogno, diciamo, subendo un altro e cambia non solo la storia, ma la geografia. Perché cambia la geografia? Perché Patrone aveva delle idee molto grandi. Anche lui è un personaggio interessante. Nasce a Lume in Perù, reso ricco dall'importazione di guano cileno. «89 acquisisce i possedimenti di Diego Marcello e la caccia sodri dal nulla». Queste sono le parole. non sono le mie parole, queste le ho lezioni. Ma non era nel nulla. Anche questo è una discussione molto soggettivo, se era nel nulla. Però per lui cercava il nulla per poter mandare avanti le sue idee. Allora, quindi tra 89 e 91 feci costruire il suo castello dall'impresa Luferini di Castelmuoro, che dopo costruirà anche della Godilotta e della Corcos. Pena molto, sì, mi dica, sì. Come si vedevano quella foto storica, io sono di Castello Certo. Sì. Quella foto storica che ha pubblicato il posto Cazierismo. Voleva stare nell'attenzione perché la pasta di fondo era quella del Marcello. Questo? Sì, sì, sì. Sì, sì. Quindi non l'abbiamo un lito prima, eh, perché può darsi che Martelli era ancora in vita, perché... Però... Sì. 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 Perché la proporzione del castello non era più azzurro. E poi chi era Martelli tutto sommato, eh? Sì. 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 Allora... Demolisce la villa di Martelli. Ultima traccia. Ultima traccia del giornalista Gerventino, cioè non in tutto, ma a Castello Cello. Attua un vero e proprio piano regolatore privato, portato avanti sul proprio terreno, senza che l'amministrazione comunale potesse intervenire. Sì. Sì. Tu come uomo, senza freni, puoi cambiare l'ambiente. Per il bene o il male. Io non faccio nessun giuris. Dove bene comunque che ci rendiamo conto che quello che vediamo tutti intorno a noi è il prodotto di un'X iniziativa di qualcuno che non è stato bloccato da nessun altro. E vedi che lui regala una porzione di terreno ai personaggi importanti per attirarli al luogo. È inutile creare un luogo di prestigio se dal Ciliano vengono le persone di prestigio. E quindi che fa? Nel 1895 si fece costruire dall'Istretto Luparilli una villa per il pittore Vittorio Matteo Coccos. E nel 1896 le consente chiave in mano. Poi il donna all'ingegnere di Teppi dei Montel, che era quello coinvolto con la ferrovia, l'angolo della futura Godilonda, al suo lavoro di Gufferini. Dona al commercialista Saverio Parisi, proprietario della dito costruttrice della ferrovia, il terreno per la sua villa costruita nel 1906. Dona al proprio sovrintendente Luigia Diano Mellani il terreno per il museo destinato alla conservazione dei tanti reperti scoperti in zona e il terreno dove compierà la villa di Ginevro vicino a Cocco. Nel 1907 dona le tre strade al comune. Questo in sé è interessante perché un proprietario che sta creando una cittadina costruisce le strade e le dona al comune. La decisione è molto interessante. La decisione è esattamente dove andava alle strade, l'ha preso lui, immagino. E' certo. Man mano che essi erano ceduti, la zona si presentava oramai edificata con antigiardini che bloccavano l'accesso al mare. E poi incrementi il numero dei piedi nella città e anche ai bordi delle strade. Perché i signori non erano prenditori quando camminavano per andare su alla paia dell'Augonia. Devono stare dentro. No, ma certo andò qua c'era bisogno di lombra. perché se torniamo indietro a vedere le stelle del luce o le luci del Mazzarone, l'ombra non c'era. Quindi avendo creato la città, la piccola città, l'ombra ci voleva. Allora, lui entrò in discussione con il Comune Filosniano Marittimo per la locazione della stazione. All'inizio del novecento si forma il Comune Filosniano che dovrà spingere per la ferocità Livorno-Vada. perché prima non era la ferocità Livorno-Vada, veniva dalla linea Firenze-Livorno, passava qui a Cecina. e quindi c'era un bisogno, se questa gente ben istante, famosa, dovevano venire a Castiglioncello, ci dovrebbe essere una ferocità. Allora, lui si contrasta per la locazione della stazione. Nel 1905 il Consiglio Comunale cambia le località di Montiallina e Caletta. Ma intanto l'ingegnere di Montialli ha quasi terminato quella di Castiglioncello, costruita dal Valone a costa del suo Castiglioncello. Quindi non aspettava, e se lui era contrario a mettere una stazione giù alla paletta, però nel frattempo fa il suo, la sua stazione davanti a casa. E il 3 luglio del 1919 il nuovo tronco ferroviario viene in alto in alto. E quelle due stazioni, una stazione che sappiamo, alla paletta di Montiallina. E poi siamo al Golfo dell'Ausonia. Fino a che Diego Marcele aveva tenuto per stella tenuta di Castiglioncello, anche il ferroviario che circondava il Golfo dell'Ausonia, a prova naturale fin dal tempo degli Etruschi, era brullo e duro. Con la sola casetta del denaro affittata ai pescatori, i fratelli Auliboni, che sorgevano loro la cappella fino all'inizio del nuovo cerco, nell'impenatura del cuore di Cielo. Io non sapevo un gran che, a proposito della pesca, ma pare che era molto stagionale e che i pescatori seguono la migrazione dei pesci, tenendo giù dal Lugorno, passando lungo la corte. Quindi per un certo periodo, qualcuno mi potrebbe spiegare, per un certo periodo dell'anno, questo posto era molto importante per i pescatori che erano migratori e seguivano i pesci. Tutto è cambiato. La casa dei pescatori fu demolita durante la costruzione dell'albergo Mela Mare, io ho letto quella data, intorno al 1910, però nella lavora l'hanno iniziato nel 1911, ho trovato. Non so se hanno demolito la cappella prima di iniziare o a che punto, però il punto è che quando si vede questa cosa non c'è più. E storgono al suo posto i bambi concessi sul terreno e demanuale dalla provincia di Pisa, portamenti voluti dal patrone, furono costruiti su palatite con veranda e caffè, ristoranti e locali di Pesunno e barri. E accanto si trovava la caffè per le barri. E qui si vede il castello, qui qualche albero c'è. Quindi questa piantagione desidero di mettere una vegetazione più alta, diciamo, lungo il promontorio stava andando avanti. Però il patrone si stufa, e qualcuno di voi, io non ho potuto approvogliere questo, però si stufa. Nel 1915, arrivata la ferrovia, si stufa, forse per un ragazzo che non voleva che arrivate, che non sappiamo. Sarà di interessante sapere. Allora, vende a Romolo Monti di Monte Cattiniterme, quasi 800 metri di terreno, dove fa costruire il futuro Miramale. Nel 1915, vende all'avvocato Odorico D'Alfabro, un pezzo di chineta ed un piccolo fabbricato che sarà poi di Gursal, e nel 1932 la mela gelettina dal gelata a Teglio Terruti. Nel 1921, si costruisce la sezione del Pascio, e il parone padrone non si scorda più. Qui c'è una storia che sarebbe molto interessante a raccontare. Nel 1925, vende il castello al pistoiese, al sede di Rindello, e se ne perdono le cacce. E nel 1927, muore a Monte Cattiniterme, nel più citato di Monte Cattiniterme. Chi ne parla così? C'è qualcuno che era un uomo? Anche questo è un uomo. Allora, qui entra la signora Bianchese. La pittarella venne lasciata da Coco Chanel nel 1923. Prima di lei, abbronzati al sole, non era considerato un crescente antimoda, ma il contrario. Infatti, le donne dell'epoca si facevano lottare a Spasso per le città muniche di Ponte Vini, Beletti e Palazzoni piuttosto un lontano. E dice la Coco, una donna deve abbronzarsi. L'abbronzatura dorata e scinta. Lei diceva quando nel 1929 contropose all'aristocratico Palore, una donna è adottata come sinonimo di elegante. e chi meno di un'icona di stile come lei, l'influenza di allora, per dirlo, abbandonati quindi il colorito chiaro e preparativi al sole. Allora, io dagli anni fa dico, da quel punto in poi, le coste del mondo cominciavano a superare un cambiamento drattico e spesso irreversibile. non solo negli Stati Uniti, ma in tutti i paesi dove gli europei sono andati a vivere. Ponte la cementificazione che c'è stata molto da parte nell'influenza. Vediamo, perché adesso parlo proprio di, della cementificazione. Il Comune di Rosignano Marittimo è la cementificazione delle coste. Allora, non so se avete visto, c'è il mio vicino prodotto da una signora che lavora, intendevo portarlo con me e non lo faccio, nel Comune di Castiglione Cielo che, indagando nell'archivio, ha trovato molte cose interessanti. tra cui, due coppie, una una lettera. Vedo prima la lettera, questa era di una signora verde, c'erano due sorelle, se non mi sbaglio, la lettera, esplicito al sindaco, nel 1927, il posto di Crepatula, cingendovi senza un regolare e proprio detto, pillava ora da una parte e ora dall'altra, producendo un impalutamento della spiaggia balneare, ed in una nottevole cuartità, viste, spettamente, da un bar. Eh sì, ma se si guardano la nottezza matta, non andavano lì. In questo vicino c'erano due belle curve, due belle curve che tutti i fiumi quando si avvicinavano al mare, più o meno fanno questo. Queste curve sono state tagliate in letto per fare questa, per far sì che la spiaggia non fosse invada dall'acqua piovana. dalla spiaggia. Allora, ci doveva essere un'opera, che doveva disciplinare con una rettificazione il corso del bordo, alzare le sponde e ostruire la strada di D'Arcordo per completare il lungomare tra Monti dell'Avena ma alla proprietà Udl della Capra Marina. Quindi, questa era la richiesta della famiglia D'Arcordo per i Berti e il comune che accetta e poi va avanti con la costruzione del lungomare. il primo tratto era il lungomare Cristoforo Colombo e il secondo era Amerigo Vespuccio e Alderocciorri. Nel 1932 il Comune inizia la costruzione del Stato Solareare Nero dal demagno preso in affitto. Il demagno preso in affitto. Queste parole sono interessante. Inizia tu puoi prendere in affitto una parte del demagno e dal colore. Dovete anche chiedere però la collaborazione della famiglia D'Arcordo, già concessionaria della zona attraversata dal percorso pedonale nella zona di Puglienti. Loro avevano ottenuto la concessione prima del Comune e quindi il Comune per fare questo percorso doveva chiedere il permesso all'Istia. Se l'Istia li avrebbe detto di no, immagino che non sarebbe stato compitato, non lo so, però erano d'accordo. e va fino a Porto Vecchio dove terminò con una corte stalinata sul mare e con un viale aggradone che si inoltava nel verro della Cernica. Quindi dove scurgeva finiva lì. perché qui subvenza la roccia il gatto e qui la costa era così e quindi non è il caso almeno oggi, allora nemmeno oggi, di alterare quel senso di costa. riprende, come sappiamo, dal circolo nautico a Porto Vecchio e quello fu aggiustato negli anni 90. allora qualcuno comincia a fare qualche domanda perché questo l'ho preso dal Tireno 25 anni fa oggi, il 3 febbraio del 98. La passeggiata è stata prolungata ed ampliata dall'amministrazione comunale con una colata di cimento che, in alcuni fatti, ha preso il posto dei vecchi matri. A me sembra che la giornalista non sia tutto d'accordo di quello che lo scrive. Andando avanti, e poi facciamo una pausa. Il boom economico. Il turismo balonare per tutti gli italiani arrivò solo dopo la seconda guerra mondiale sulla scia del miracolo economico degli anni 50-70. nei comuni, lungo le coste, crescevano albermi e secondi contatti. E dopo che la legge Buchalox entrò in vigore nel 1977, i comuni stessi cominciarono a guadagnare dalle concessioni edilizie, anche che il denaro che entrava doveva essere utilizzato solo per urbanizzazione per il cuore, creare fogliature, illuminazione e così via. E queste due mappe dimorrono chiaramente l'effetto sul tattilo micello. Allora, questa mappa fu fatta dall'esercito americano nel 1942. E' interessante che oltre la ferrovia c'è quasi niente. c'è una villa qui, qui c'è la villa di Patrone, via Lungomonte non esiste, una parte esiste e anche via Dremacchia non esisteva. Questi hanno casi singoli, ecco. 43. Questo è di Google di adesso. Tutta questa zona qui è casa. ci fa ricerca che in un arco di 80 anni c'è stata un'esplosione, non della popolazione, perché molti sono in seconda casa, un'esplosione dell'area urbana. Allora, adesso vi dico questo, arrivati turisti bisogna sistemare la costa in Italia e in ospitale. Questo sono io. Perché chiaramente con questa quella gente dove vai, su quale viaggio vai, dove metti, dove ti metti. Allora, questa è una mappa geomorfologica. Adesso, senza provare a guardare tutto in dettaglio, questo verde è una zona stabile. Questa è la zona della panchina dove maggiormente le case sono state costruite. non serviva come terreno agricolo, allora va bene per costruire. Facciamo le case qui. Qui abbiamo questi segni, questi V. Questa è la costa in ospitale, nel senso che c'è uno foglio o altro o meno, però impedisce un libero accesso al mare. dove qui appare questa roccia, questa zona 13, c'è un cambiamento di roccia e la baia. Le baie sono state create tutti quanti dove c'è un cambiamento di roccia, o addirittura questa è la quercetana, cambia la roccia ma anche c'è il bocro che entra in questo punto. Quindi non c'è tempo di parlare nemmeno dell'effetto dei bocci sulla morfologia della costa. Qui una volta dove ci sono questi disegnini qui c'era la vecchia costa, una vecchia costa e quando si sale subito andando su a via Brenta, quella è la vecchia costa, la costa di ogni realtà. vediamo che le costruzioni per trovare a domare il mare ci sono. Questi qui, questo è un'opera di distesa longitudinale, no, questi distaccati sono longitudinale, questo è poche e ripari nautici, questi li descrivevano come ripari nautici e qui ci porto vecchio che è pieno zeppo di ripari nautici e di difesa longitudinale distaccate. i pungenti sono rimasti tale, non sapevano, nessuno sapeva come fare, quindi non hanno fatto niente. queste, qui alla caletta abbiamo quella barriera, questa difesa longitudinale distaccate e qui andando verso Solvea, qui c'è la crottatura e tutta questa zona qui dove i pungenti, come i pungenti però li hanno trovati, come vedi qui, a fare qualcosa. Io ho messo, ho messo, alla caletta bisognava domare la panchina, che facciamo questa panchina con tutti questi turisti dove li mettiamo? Allora, facciamo una costruzione, una piattaforma dove l'estate ci sono le ombrellone e per permettere ai pungenti di accedere all'acqua c'è un camminamento qui di legno e poi la sabbia. Come facciamo se il mare torta via la sabbia? Allora facciamola arrivare da qualche altra parte. Qui c'è una bella muccia di sabbia, lì alla caletta, dove l'hanno messo qui al riparo e poi la stagione successiva lo rimettiamo a posto. Io ho guardato, non c'è segno di vita, non c'è una conchina, non c'è un pezzo di posto dopo. E quella è un'altra storia che non ho tempo di raccontare adesso, il mio marito sta ridendo, lui posso un po' dire durante la pausa. Allora, se pensiamo che ci siano stati cambiamenti lì alla caletta, forse meno di tutto alla caletta, andando verso Porto Vecchio. Porto Vecchio è irriconoscibile. Questa maia ha subito dei cambiamenti drammatici del periodo in cui fu dipinto da Giuseppe Abati nel 1873. Nel 1879 Felici Cardone acquista vaste aree di terreno, compreso la casa Lunga, che qui era sul quadro di Abati, sulla punta di Levante. Inizia dalla costruzione della sua amica, su un terreno, prostiscente al mare. Alberto, se lei fa dov'è, mi spiega, perché ha po' girato e non lo trovo. Allora, del 19, dopo me lo dice. La Mila Luca è di fronte a Porto Vecchio, ha la ferramenta faccenda. Faccenda pubblica. Ecco, praticamente di fronte, c'è un tacellone, e lì c'è l'ingresso della Mila Luca. Ok, grazie. E' un terreno. Allora, nel 1919, sulla stessa punto, Carlo Montesemolo fece costruire la sua mila, distrutta nel bombardamento del giugno del 1944. Questa è una bella foto di Porto Vecchio negli Ami 50. e si vede che c'è un po' di cemento, questi due qui, ma non del tutto. Non è tutto cementificato. E questo lo faccio io. Praticamente le onde del mare non dovrebbero arrivare sulla spiaggia. Questa è l'idea. Qui c'è un corvolo, però il mare è più furbo perché arriva ogni tanto e fa una bel diposizione qui di Porto Vecchio. Quindi qui c'è la massima espressione del tentativo dell'uomo di oggi di adattare l'ambiente per i suoi motivi. e molti economici, social economici. Perché la gente che ha compratto la cassa pretende di poter stare all'uomo. Pretende di avere uno spazio. Non vogliono quella roba tra le guida delle pietre, eh. Non vogliono, non vogliono. E la povera Botto fa strada. E ai lati della cucina e può fare sotto... Non ho letto la cassa. C'è con una... Non ho letto la cassa. All'inizio. Il vostro è della pia strada. Della pia strada. Io ho trovato... L'ho corretto, grazie. Non so dove l'ho visto scritto così. Comunque c'è, è sotto il camminamento che chi ha la barca usa per arrivare alle sue barca. E finiamo qui la quasi... Non leggo tutto questo, solo l'ultima parte. Questa è la giornalista nell'articolo di prima. E lei vuole sapere... Lei ha voluto indagare, ha chiesto a chi possiede gli stabilimenti perché lo fa... Che fanno quello che abbiamo visto a Porto Vecchio. Per salvaguardarli. Per ospitare al meglio i clienti, per mettere la struttura a norme di legge. E per aumentare il posto degli ombrelloni. E quando lei ha chiesto un approfondimento, la risposta che viene data dagli operatori, a coloro che il processo non è... Noi siamo in Egitto. La legge non è. E finisco con questi... Questi casi di un cielo oggi, eh. Meno male che è morto patroni perché avrebbe girato più di una volta nella sonda. e avrebbe scritto... Come sarà il futuro a Castiglioncello? Il futuro per Castiglioncello? Hai macchiaiole? Hai graffitare? Questo è l'ingresso alla piccola spiaggia libera, a una delle poche... Come si dice? E quella è la cosa che si accoglie quando passa per il cancello. Di fronte alla Torinodicea, di fronte alla bella città di Sant'Andrea, questo è lo spettacolo che accoglie il visitatore e il Presidente. e la cuceva... rimancano le parole... Godi l'ombra! E questa patetta, abbandonata la buona notizia che l'altro giorno c'era la ruffa e hanno sbomberato tutto il giardino intorno, quindi probabilmente facciano qualcosa. E' una patetta. E' una patetta. Era in un angolo del via Aterna, via Aterna, via Bengali, e quando si sale da dove c'era la ruffa storia, che adesso hanno sbomberato, si sale, e in quel punto lì c'è questa patetta. E cada set, però da un po', c'è un ruffetto al cancello, l'altro ieri, due giorni fa, in settimana, c'era una ruffa che hanno sbomberato. E allora, questo finisce la prima parte. E allora io ringrazio di avervi ospitato perché io sono una figa cinque anni, poi come Alberto figa è una vita... No, no, poi si va ad ordine, si va ad ordine. Se Enzo vuole, lei la lascia fare, racconta la storia della sabbia del ferro. Ah, sì, sì, sì. No, eravamo andati in ferro. Ci abbiamo un peso perché... Inverno era in ferro. Inverno, perché andiamo a vedere l'opera di cinema. E' l'unico volco di centro doveva andare. E quindi si va lì. Andiamo al ristorante e vicino a me c'era un ragazzo. Il ristorante era pieno. E c'era un ragazzo con un sacco di caratteristiche. Allora io comunque mi sento un po' curioso, parlo un po' con tutti. e inizio a parlare con questo ragazzo che è da Parma. Sì. 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 Allora Alberto ti è meglio di lei perché di qualcosa. Sì. Ma molto appassionato questa parte di specchietà, con nostalgia, lo dico, sono nato in una villa, proprio sopra il porticciolo di Castiglioncerto, che ci ho vissuto oggi, che poi ero grande, spese alle strane. Sì. 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 Volevo dire questo che i figli, i miei primi giochi in una cesta erano lì sul mare. Sì. Ora vorrei dire queste cose, la fortuna della mia famiglia, che quasi tutti sono stati, centenari e più che centenari, ho nascuto il mio nonno che fu castellando le parole padroni. Padre di sera. E mi raccontava le storie. Allora c'è un passo storico che io ho provato a dirla anche a Silla, è complicato a cambiare. Se si entra nel cartello pastigli, da cartiglio uncello, subito sulla sinistra c'è la cosiddetta limonaria. Sì. Quelle erano le stalle. Allora il parone padroni incaricò il mio nonno che gli facevano le arance e le fece venire dalla Sicilia per il nonno costalesse a Bada, perché il porto era a Bada, e lì ci metterà l'arancello, non la limonaria, poi sparirono. Qualche cosa gli annuncia era arrivato, gli avessero il nome la limonaria, ma con i mori in su, al cartello pastigli ce l'hanno mai visto. E quanto riguarda l'erogio, allora guardi, quella è stata una cosa che do sempre come una fotografia, i bagni del corpo di cartiglioncella, scendendo giù doveva il circolo nautico, che c'è il cartiglioncella, che c'è la discella, che si guarda al corpo, guardando verso il corpo c'è il pezzettino stretto che si chiama bagni miramare, con i bagni autoniali, che sono di fronte all'uterni miramare, dopo scendendo giù. Di qua i bagni pelosini. Pelosini era il cognome del gestore, è stato per tutta la vita. Quello che va, diciamo, poi, detto, la battaglia, puntaglietica. Sì, sì. Io quando ero piccolo ce l'ho conosciuto, un pennello di tassi, lì a questi bagni pelosini, franci tutti. Quando, in questo anno 60, siccome gli entrava il mare, gli portava via la tappia, era distratto, come se non si è mai saputo, però dopo ci venivano dei forti attriti, così che l'altro gestore dei bani, ci fece venire una gru, che portò dei massi, risistemato da questo pennello, e lo alzarono. Praticamente, la tappia, qui con i nostri stavani pelosini, per spargare la bagno donna, è stato vero, 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 è stato vero. Di stare questo piccolo contributo. Grazie, perché le parliamo dopo, proprio di questo punto. Grazie mille, eh. Più che si impara, sempre meglio. Grazie. Scusate, perché ho la caramella. Andiamo avanti, se no saremo qui. Allora, Qui abbiamo l'altra parte del palco scenico, due tratti di costa, questo è Cercinamare, qui c'è la spiaggia, e qui c'è la spiaggia Libra, il Tomolo, un grosso frutto affiancato da Leopoldo II durante il periodo della bonifica dell'Artono. E si vede che dove ci sono queste cose qui? Si chiamano pennelli? Io non sapevo nemmeno, fin dall'altro giorno, leggendo l'articolo sul Tireno, o scoperto come si chiamavano, e il movimento di materiale lungo la costa è da nord, e che succede? Che il materiale rimane dietro il pennello e la povera spiaggia qui è deprivata di un rifascimento naturale. E infatti scrivo, a sud di Cecena la spiaggia sparisce, il Tomolo e la sua filetta, opera di Leopoldo II di Lore, a Grandunca di Toscana, nel 1839, potrebbe sparire. Infatti non so se si è chissà, è una scena tesolante, esonante, con tutte le radici di questi pini, con le onde che... L'erosione marina in questa sezione di costa è incrementata, dovuta ai problemi legati ai, scusate l'italiano perché avevo cambiato il nome, ai pannelli e reti per la protezione delle coste. Il movimento del materiale prodotto dalle regioni marini in questa zona e da nord a sud si accumula a nord dei pennelli e a sud la porzione di spiaggia che anche viene deprivata di rifascimento naturale. Andando ancora più inizio, qui siamo sulla costa a sud di Marina di Libona e prima di Don Racco. Questa è la scuaggia di Bolveri, che fa parte della riserva naturale. Questo è il lato marino del padule di Bolveri e offrita che la costa presenta un altro aspetto. Qui c'è i balatti, qui c'è tutta la costa che le regioni di Pia. Allora, qui abbiamo le zone ben demarcate. Questa zona qui viene sovverta all'altra marina e qui c'è una linea di tossi d'ombra di Pia. Qualche volta, quando ci sono le zone, le zone abitano tutti, ma subito verso la sabbia e pesca e le piante hanno cominciato a colonizzare questa sabbia. e adesso abbiamo cambiato visione. Volevo trovare un'altra foto che era nella stessa dimensione di questa sezione, non l'ho trovata. Però qui abbiamo il mare e qui la costa donna che viene portato e lasciato in questa zona. La spiaggia intercidale si chiama. Qui c'è l'accumulo di sabbia. Questa ora è l'opera del vento, non è l'opera delle onde. Quindi spiaggia emersa. Perché sotto qui c'è la vecchia spiaggia, la vecchia spiaggia marina, coperta di sabbia, coperta durante le azioni del vento. E questo dietro c'è una piccola depressione in cui ci potrebbe essere un accumulo di acqua dopo la pioggia. E questo favorisce la crescita di erba. Queste piante qui possono sopravvivere senza acqua o quasi senza acqua. Hanno le foglie ciolustine che l'evaporazione è al minimo. E poi una vecchia luna di circa quanti centimetri o circa di anni fa, colonizzata dai citturi, è solo lì, solo dieci. ci dobbiamo dire. Perché il ruolo di queste piante qua è di creare un suolo, di creare il credere. Quindi l'humus, il deposito, il tritso della piatta, rende ricca, più ricca il suolo e le piante più sofisticate, più complesse, con delle radici più lunghe, possono sopravvivere. e qui c'è un bosco e finalmente un'amica. E finalmente non dovrebbe mai essere un altro del mare. Perché non c'è tempo di parlare della successione naturale delle piante, perché ogni ambiente ha una successione di piante. Il ruolo della colore, della piante che colonizza tutto, è di cambiare l'ambiente. poi muore perché favorisce l'arrivo di un'altra pianta. Infine si arriva ad una pianta che nessun altro può spostare. Perché il massimo è come l'acqua nel piramide degli animali, nelle vegetazioni in tutto il mondo c'è la pianta maestra che non viene proprio tagliato di natura, di natura, l'uomo lo sa, sì, ma la pianta e si chiama climatic climatic. E' proprio il massimo che può crescere in quell'ambiente. E' il primo, è il massimo, perché qui c'è la salinità, il massimo che può crescere in quest'ambiente, ma non qui c'è. Il crollo è che non sono non sono strutturati per subire cambiamenti, movimenti della, anche di vento, eh. Un vento butta giù un vino e mi sentiamo come sappiamo tutti in pratica del cielo. E allora, la storia di questa zona, vado avanti un po' più spiegato, su un personaggio sconosciuto, quasi, io non sapevo di lui finché non siamo andati a fare visita alla riserva naturale. Era un po' inizio, si chiamava Mario Incida della Lecchia, si frequenta la facoltà di agricoltura a Pima e incontra la famiglia di Garandetta e si sposa Clarice della Garandetta che è la famiglia di Bocco. Lui era, questo non so io, qualcuno dice che era naturalista lungimirante che nel 1959 trasforma una parte dell'azienda di Paglia la tenuta San Guido in un rifugio paumistico per la fauna semplica legata alle zone lunghe. vado inizio inizio un attimino perché oltre i tini c'è l'ago la luna perché l'acqua non ha trovato un modo naturale di sfondare le dune e l'uscita quindi questa bella laguna che vediamo è dietro ai tini dietro alla vegetazione lungo la costa allora dovuto alla sua decisione di proteggere una parte della sua tenuta questo importante non è che l'ha comprato da qualche altro era una parte della sua tenuta è nato questo rifugio paunistico padure di dovere a lui intitolato poi formato stato dal WWF nel 1965 viene nominato presidente del WWF in carriamo mantiene questa carica negli ultimi anni in forma onoraria fino alla sua morte nel 1983 e da allora voglio riconseva tutta la bellezza paesodistica e la biodiversità tipiche della media alta marrona costana un raro esempio di ambienti costiero e retro dunale ancora ben conservato nella regione e la parte più importante è legata alla presenza di una zona umida ad andamento stagionale alimentata esclusivamente dalle piogge altunale all'invernale non potendo contare sugli apporti idrici di un emissario e su tratti di 80 ettri di panoglietà o dolce circondate da 440 ettri tra posto avagato tratti umidi e incontri tratti e conservazione questa è una rara pianta è un prassimo ossifillo rarissimo ormai in toscana poi ci sono non si vede nella foto basti tratterie umide un bosco costiero che è il zombolo e la luna e la leville non è che non vanno più a caccia e ci vanno a caccia però non lì quindi non è che hanno sassistato la sua attività però quella parte di tronci amare tra fatti della ricerca allora metto due ognuno patrone e rocchetta due visioni completamente opposte hanno prodotto due ambienti che non condividono nulla tra il clima mediterraneo ed un tratto della costa cilentare un ambiente in costante evoluzione seguendo le mode e le leggi del mercato questo è il patrone un ambiente conservato per le future generazioni seguendo le leggi della natura è solo un modo di vedere non è il Vangelo è un modo di vedere come Gioca io vedo le attività di queste due persone in questo modo e dico spero di aver suscitato un affrontamento della mia materia alla geografia e di aver stimolato una vostra repressione dovete finire qui poi c'era l'articolo sul giornale che mi ha fatto sperare un pochino perché tornando all'ultima lezione che si parlava di quello che hanno fatto lì in terra provando a impedire che la costa sparisse l'hanno capito accendere allora è molto interessante leggo prima pala del problema che abbiamo già visto qui i progetti di rifacciamento che sono stati proposti nel corso del tempo hanno mostrato tutti i limiti temporali sopra tutto di efficacia per combattere l'evoluzione che si sta mangiando la pioggia e la stessa finessa mettendo a rischio tutto il sistema donale io per me il sistema donale non c'è più che c'è c'è normale non si deve assolutamente negli ultimi 3-4 anni addirittura si sono persi 10 metri di spiaggia e tutta la prima fascia di vegetazione con lo scalino tra la finestra e l'area di che diventa di anno in anno sempre più alto e verticale gli interventi di rifacimento fatti in passato hanno si restituito all'area di metri in più che però della stagione invernale sono stati in gran fatti nuovamente mangiate dal mare il nuovo progetto ha preso in esame diversi posti stanno poi concentrati sulla realizzazione di opere di difesa costiere rappresentate da otto isole sommeste costituiti in massi di scogliera a distanza di 200 metri dalla costa isole e non penelle come è stato fatto nel tratto di marina perché favoriscono si legge nella relazione tecnica che è stata predisposta prima di mettere in campieri l'intervento la tendenza al deposito alle spalle ma allo stesso tempo il mantenimento di correnti lungo riva consente al materiale di essere trasferito anche se con denore velocità verso il giù alimentando il restante litorale riducendo il rischio di erosione verso il giù quindi questo per me è la prima volta che io leggo che la responsabilità non è per quello ma per tutti quegli altri che sono più assurdi dell'intervento adesso prendiamo il piatto per quanto costa allora dice esiste già il progetto definitivo di tutte le otto isole per le prime tre è arrivato un primo finanziamento di 1,9 milioni e entro la prossima stagione estiva con partenza brevi saranno realizzate le due mancano le due mancano altri 3,3 milioni sono in base di attraverso gas non so quale percentuale questo è del tutto il budget della regione costana per interventi lungo la costa perché la costa della costana è parecchio nulla però hanno capito che questi femmelli non è una soluzione e io penso certe ma non se il contesto di me da dire ma c'è la male ed è una fatta ma è peccato però il caro Rodolico era Rodolico le non sapere che non doveva essere troppo vicino all'acqua quindi una cosa tanto che un amico di un umanismo che ha un stabilimento balneare via che ha detto la confezione di che lei ha fatto ho visto un paro il suo stagimento di qualun'altro me non ho mai avuto a così di neanche quando ero go c'è no sì certo noi avevano questa volontà venendo un po' i caldo che in questa direzione mi ha portato in questa sabbia però poi con certe lato di lato però si può anche essere troppo lontano dall'acqua con questo rifacimento perché lo stabilimento si potrebbe trovare anche troppo lontano dall'acqua per un po' va bene se ha padone più che uno si sta quindi è un punto di vista economico più schiata più risonzi quindi si 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 però qualche altro c'è altro ma così non c'hai detto niente di rosignano sono più d'olta non c'hai detto niente di rosignano no io non dico niente no perché rosignano è un discorso inter io volevo vedere dal punto di vista geografico due pezzi di corsa che le arceologie cioè le altoscenze erano condensi di merco quello che è stato fatto è stato condizionato molto da questo fatto se noi andiamo in giù in una zona di poveri perché fai ciò che sono in colina ma anche qui c'era la mamma c'era abitare vicino alle coste a quelle coste era sconsigliato non si vedeva perché non era anche un caricato quindi la geologia la creazione iniziale diciamo la morfologia della cosa e volevo perché non è che voglio parlare soprattutto di scelte ho illustrato le scelte ma la scelta dell'essere umano è sempre condizionata da quello che trovo in un particolo luogo se ma so che Mauro parabolazione la scelta di fare una patrica lì in quel momento è indubbiamente era condizionato da molti smittatori che sembravano valore io qui non cioè non voglio giudicare voglio che ci pensiamo a tutte tutte le concezioni che il comune dà in un comune la regione la provincia di Andorra Pisa la provincia di Pisa ha dato la concezione al patrone di fare il bagno a Donia e i pescatori sono stati scomperati che quasi non ci pesci più non ci va a pescari più a pescari dove dove non c'è più un pescario quello giù alla cabeza se ne andate se non ci sono aspettati saranno c'è senza di qualche anno quasi tre aspettati quindi ogni decisione ha un impatto più nuovo in cui ci siamo io non critico la scelta di nessuno nel senso che ognuno agisce nell'epoca in cui nasce però le generazioni successive vivono con le conseguenze o bene o male io per quanto riguarda la geografia bene e tanto c'è la gente capita quello che vede adesso finisco con un piccolo architore che è stato detto eravamo all'elga a Natale perché siamo luocatori andiamo là siamo persi là era troppo credo però c'era qui era andato però una stagione dove andiamo noi se si fa lo snorzio lo su ci sono certi pesci le occhiate che ti seguono che fanno attanto che muocano insieme a questo allora nell'albergo ci ha detto il ragazzo dell'albergo che un turista voleva andare in causa perché sulla pubblicità di questa spiaggia dove andiamo la spiaggia non c'è più infatti non c'era ci ha detto per due inverni e le onde hanno portato via i sassi con le piacce poi sono tornati però è in piaia tra l'altro tempo lei è andata in vacanza e non ha trovato questa spiaggia che c'era ma la gente non capisce questa è la mia domanda non capisci che il mare sposta la roba dove vale al mare per me è il palese sì sì ma dove sta via dove è la spiaggia non sta rimbrogliando sì adesso una cosa di Castiglio Cielo ha citato via lungomonte sì che sposa ora in piaia dalla cate sì nella attualmente Castiglio Cielo finisce dove località fa salire sì poi si viene in più è sempre via lungomonte sì prima la che dice via verra ora era il lì vado a cercare la macchina un secondo successivamente per avere degli introiti in denaro ci voleva del terreno in più sullo segnale c'è super rotato tranquillamente Castiglioncello fu ridotto diciamo il territorio dove la vendizia è diventata il punto in un petto tutto che c'è l'invoto per andare fuori sulla strada sì ecco quella lì quando io ero piccolino c'era il burma tre o quattro anni si partiva da piccolino c'era andata alla pittorella si chiamava via del camerone ma anche negli anni settanta e poi non è tutto pianto non andiamo vi avvi vedere era tutta pianta ricorda si rimane Esatto, un altro castiglio c'è e mi invitò poi a visitare questo castello e c'è un lago all'ingresso dove mi fece pezzare perché quando erano grandi osi mi piace pezzare con la cama, pezzare i pezzi, quando veniva il conte in visita perché la tua moglie li preparava. E' una nota di colore che mi interessa forse storicamente ma mi riporta dietro col tempo. E' vero, allora questo castiglionciello quando era lì lo chieda guardando il mare ha preso la decisione di procedere quel pezzo di corsa, questo lo so. Sì, l'hanno affittato con l'italiano perché tutto il bordo avevano favore a cacciatori di troteche, io l'ho saputo a quel tempo lì. Sì. 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 Il bordo dice che il colte ha affittato con una presenza vista discreta agli militari per evitare che cacciatori di troteche. Anche lei ha una decisione di una persona che ha un impatto sull'ambiente. ci permesso che cacciatori di troteche. Essi. Ed è in grado, questo è comunque un call per di troteche. Grazie, grazie. Grazie. I am a pretty fan.